Siamo tutti ragazzi e qui ci sono tornati su Bioshock, gioco da Omar e devo dire che sono preoccupato e scusate l'audio naturalmente dicevo preoccupato e intrestito allo stesso tempo per il fatto che quando ho giocato l'altra volta, nella partita numero 3 il gioco non mi ha salvato oggi dimentico di salvare, non lo so questo è l'unico, sto tornando ancora con il Big Daddy comunque dicevo che sia non posso fornirvi la puntata domenica come avrei voluto cioè come da scaletta perché è lunedì e sto registrando quindi se va bene lo avete martedì altrimenti altrimenti lo avete addirittura domenica dopo questo gioco è comunque dicevo sia non lo avete in tempo sia io sono nel sono stato costretto a rifare tutto con la parte lì e ho scoperto delle cose che prima non avevo scoperto tipo delle munizioni come vedete ho tre robie di vita e sei di ma e sei di adam quindi eh ma che è antissima ora e quindi questa parte non l'avevo ancora aperta e quindi dicevo eh salto non sono riuscito a fornirvi del contenuto che avrei voluto offrirvi visto che questo è il tipo di gameplay che voglio fare su bioshock del tipo se volete giocarvi se volete giocarci io vi offro dei degli strumenti per farlo mentre non sono riuscito qui questo parte l'aveva già fatta non ne ricordo quindi non mi frega ah per favore fai di fretta e quindi tutto qua insomma mi dispiace un po' di non avervi fatto di non avervi offerto quel tipo di contenuto che volevo offrirvi primo e mi dispiace che adesso dovete rivedere delle parti che voi avete già visto e beh così tac tac è di vittura adesso ah rollare lente intelligente bene comunque niente questo è un gioco più difficile che ricordare prima giocato io ho cominciato a riuscire in una serie che da molti è ritenuta difficile però vedrete non vi spoiler niente dell'avventura futura di questo canale che poi futura fino a un certo punto perché sarà la serie che suggerirà far cry e cosa 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 devo fare guarda te guarda te si può tutti fermi che sto girando devo assolutamente farlo scendere no questo è molto più feroce di quello che sembra ok ok dai 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 tac 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 molto bene siiii faccio un'armata adesso però voglio riuscirci in maniera più elegante no eh no 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 male male tac tac forza vi aspetto intanto non c'è un po' di altazzo perché nel 90% dei giochi si sprinta con shift non capisco se è tipo il tempo di sopravvivenza ok questo sarà ok in teoria è finito quindi ok intanto mi curo l'adam questa notte è quella che ho già fatta quindi non mi preoccupo più tanto però sarà un'esperienza no ok mi sembrava infatti no si rimasta fuori intanto anche se l'ho già fatta mi mi preoccupo perca vacca eh sto scappando perchè siete tanti no spi io qui che i medici ok quindi io sto troppo capace che mi sono morti entrambi le macchie sui senti tentato del pd pt non 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 uschietta molti anni sessanta, sessanta su di una terza foto sostenuta l'altra volta perchè mi vergognerai di me oh qua così bello 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 non hai slot incenerimento adoro queste cose le adoro, le adoro queste cose direi di provarlo ah devo sentarlo premuto quindi mmm listo carino tra l'altro mi sembra che non consumi neanche vada no 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 quindi adesso devo tornare là molto bene supply chiuso sezione non mi serve questo è qualcosa che lucicava no un'illusione chiuso 1 1 la chiave c'è stato così un pazzo tutte cose in ogni caso dupiro ascizi allora torniamo su mi piacciono molto il fatto che l'unico su il fatto che il marocchi l'unico 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 io direi perché no rannazione ho capito troppo tardi e l'importante è capirlo venga ecco l'unico 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 mi piace come ti dire la mano per la telecinesi molto artiglio piccole cose che comunque l'unico dico un qualcosa l'unico 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 più che altro eh ora ok addirittura no 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 questo è diverso non lo so così non c'è massa posso posso farlo il rischio per niente poi no comunque non so cosa fare ok molto p che bel gioco platform form un cadavere bruttissimo è molto macabro oh no perforanti qui c'è ancora un altro no ti prego qui lasciamelo a girare in pace per favore qui ok da manuale quasi si viazza ci ha fatto il bello stavolta mi fa molta paura non cambia suono quando diventa quando diventa buono la c'è un tipo però vorrei vedere se si stessa roba voglio renderle bellissime ma puoi qualcosa è stato storto quella troppo grassa questa troppo alta questa troppo simmetrica e ora chi è questo che è il cruiser ma brutto sarei tu e ci muori tanta roba cos'è la cella d'emergenza? cosa devo fare? oh 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 ah che è il solito perché è il ruolo strano aia aia no non ci credo questo stavolta le piastre curve costringono oh è velocissimo è velocissimo è velocissimo ci sarà qualcosa di bellissimo qui dentro 3 kit medici mamma mia anche se mi sta finendo è finito live le munizioni per la pistola per adesso non mi ricordo assolutamente dove devo andare pannello d'accesso di emergenza la forse non mi ricordo se era il pannello d'emergenza o cosa su su finite finite pure no non ci credo che mi è riuscito ad attaccarmi no dai a morirmi voglio un po' di compagnia oh un tonico non ci credo che mi è riuscito ad attaccarmi non ci credo che mi è riuscito ad attaccarmi questo non era aperto oh 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 E' tutto un indelizioso Adam Mi scuso per quello che ho fatto Non vi permetterò di fare del male alle mie bimbe Non faccio niente Ti giuro Vitti Non farle male Vitti Hai preso delle pette bambine e te hai trasformati E' vero? Avete sentito ragazza? Non so da viverai senza l'altra Che queste cose trasformate E' pronto per malassare la tua vita Quella di mia moglie e mio figlio Per i piccoli bravi E prenderà sempre C'è un altro modo Cos'è questo? Lì da lì da lì da lì A di fiducia Io mi fido di lei No, no Voglio salvare Salva No, no No, no Grazie, signore Grazie Lui sta andando Allora, noi ci finiamo qua E niente Ci vediamo la prossima volta E avanzeremo Ciao ciao